ah buonasera ragazzi buonasera a tutti quanti e niente allora la sentenza la sapete anche se è bene ricordarlo non è quella definitiva perché poi sarà io fra ricorso e quant'altro però intanto sta venendo fuori la notizia che tantissimi tantissimi si parla quasi di 50.000 disdette tra da zon e sky continuate ragazzi continuate così perché perché questi pezzi di merda devono restare in mutande devono restare tutti quanti ok la juve si può guardare anche su su come si chiama lì il tv live streaming uno non si paga niente due due evitiamo pure di sentire quel coglione di pardo che fa i telegroni che fa tutti come sempre quindi ripeto se andiamo avanti così qualche tempo a tutti questi pezzi di merda bastardi li affossiamo a tutti quanti perché ricordatevi una cosa cari televisioni da zon sky sport italia eccetera 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 se voi la domenica andate in onda se voi la domenica fate le dirette se voi la domenica fate i servizi e quant'altro fate trasmissioni lo dovete grazie ai tifosi i tifosi giuventini in italia sono quasi 14 milioni ok se tutti quanti tutti questo è un appello che faccio fate girare sto cazzo di video questo è un appello che faccio l'ha fatto anche in tanti amici miei se tutti quanti facciamo disdetta a questa spazzatura di televisione sky da zone eccetera 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 questi vanno falliti il calcio italiano è morto è morto perché che piaccia o no è la juventus no che manda avanti tutto che ha più tifosi in italia ok se domani sera juventus atalanta non la guarda nessuno le televisioni perdono i soldi e tutto quello che c'è intorno a una partita ok piuttosto veramente andate allo stadio piuttosto andate allo stadio per meno i soldi che entrano allo stadio vanno nelle casse della squadra andate allo stadio piuttosto o se poi volete c'è il ptv live streaming non pagate un cazzo telecronica anche in arabo aramaico quello che è ok non vi dovete sorbire quel coglione di pardo perché questi qua devono andare tutti quanti falliti tutti falliti io ho disdetto oggi da zone e domani chiamo e disdico anche sky e su sky mi dispiace perché sono anni che ce l'ho come servizio non si può dire niente ma dopo questa informata che ci hanno fatto questi qua da parte mia non avranno più neanche un centesimo e spero che in tanti lo fate in tanti dovete farlo perché ricordate che le televisioni ok fanno ascolti fanno i soldi ok grazie a noi ok ok se 14 milioni di juventini quelli che siamo in italia disdiciamo tutti quanti questi finiscono a zappare la terra con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro nel giro di un mese datemi retta disdicete tutti quanti fate girare sto cazzo di video disdicete tutti quanti ok detto questo ragazzi ricordatevi una cosa nel 2006 ci hanno asfaltato ci hanno fatto ripartire da zero questa volta probabilmente fanno la stessa cosa perché mi aspetto poi se io voglio fare il corso rispetto ad altri punti di prendiazione probabilmente faremo di tutto per farci retrocedere non mi interessa una cosa è sicura tra qualche anno torneremo a rompervi il culo come abbiamo fatto nel 2006 tempo qualche anno torneremo a rompervi il culo state nei certi la juve non muore mai ricordatevelo ricordatevelo ciao ragazzi buona serata e fino alla fine forza juventus disdicete tutti quanti vediamo veramente adesso veramente chi è il giuventino voglio vedere ripeto in due giorni già 50.000 disdette ci sono state e bisogna andare avanti bisogna andare avanti bisogna lasciarli nella merda questi bastardi ciao ragazzi buona serata